Anche il 169esimo è stato festeggiato in modo molto contenuto e soprattutto riservato. Abbiamo fatto un momento di raccoglimento davanti al piccolo monumento dei caduti che abbiamo qui in Questura. Ma rispetto allo scorso anno, quest'anno ci siamo potuti permettere di consegnare i premi al personale, quindi Encomi, Lodi, ovviamente in modo molto contenuto anche questo perché non c'erano invitati, non c'era nessuno se non la dottoressa Verrusio che è il vicario della prefettura e che quindi ha ci aiutato e ha rappresentato il momento più importante della consegna. Ma devo dire siamo molto ottimisti e sicuramente l'anno prossimo per i 170 anni della Polizia di Stato ci sarà una festa bellissima che compenserà questi due anni di Covid. È una giornata importante però possiamo considerarlo anche un momento per un bilancio. L'anno, il 2020 è un anno purtroppo molto particolare, definirlo orribilis, è un eufemismo insomma, è un anno in cui la nostra attività ha avuto delle grandi modifiche perché abbiamo fatto lunghi periodi in casa, quindi molti reati che normalmente purtroppo anche di quelli più odiosi che si potevano verificare non ci sono stati perché le persone stavano in casa, nessuno usciva. Abbiamo fatto un'attività prevalentemente quindi di prevenzione Covid perché era un modo per star vicino alle persone e per ricordare le persone che meno si usciva e meno ci si incontrava e meno c'erano momenti di contatto. Era forse meglio proprio perché il contagio, come dicono molti medici, cammina sulle gambe delle persone e meno le persone si sono mosse in questo anno, anche forse grazie al nostro lavoro, magari è servito a qualcosa e ha ridotto i contagi. Io me lo auguro. Grazie a tutti.